Buongiorno a tutti e benvenuti a questo podcast settimanale. Diciamo che è stata una settimana a due velocità, l'America da una parte, anche se fine settimana anche loro hanno risentito, l'Europa al traino che non ce la fa a tenere il ritmo degli Stati Uniti e l'Italia che sottoperforma il DAX in maniera abbastanza decisa e anche l'Eurostock che si trova con dei titoli in grande difficoltà. Penso che questo succede perché per fare la videoanalisi scorro un grande numero di titoli, se si guarda i titoli italiani è difficile trovarne di bene impostati, ce n'è qualcuno comunque senz'altro, ma soprattutto ce ne sono tanti che sono già in rottura ribassista conclamata o su importanti supporti che potrebbero se violati generare un breakout ribassista in futuro. Quindi è una situazione davvero molto particolare e tutto questo in un mercato che dice poco, che si muove comunque con volumi molto bassi e questo è comunque un contesto da non sottovalutare perché anche il ribasso delle sedute avviene con volumi di poca consistenza. C'è un po' di disinteresse, lo abbiamo visto anche nel sondaggio fatto nella nostra community, c'è un po' di disinteresse generale perché in qualche modo tutti noi siamo, ognuno per la sua parte, un po' impegnati nella recovery, fare una recovery, portare così come ci hanno detto dalle aspettative l'attesa di un PIL in crescita al 5.1% significa avere molte più cose da fare di prima perché questo PIL che cresce va generato, qualcuno in maniera manuale, qualcuno in maniera pensata ma c'è dietro tanto lavoro, lavoro in crescita e quindi PIL che sale e questo comporta quindi una minore attenzione magari verso i mercati perché uno è più impegnato a fare altre cose. I mercati però non hanno particolari temi, tanto è vero che nella vignetta scherzosamente diciamo così a fronte di un balletto diciamo così come si può dire Lagarde, Powell su facciamo il tapering o non lo facciamo, io lo faccio prima tu lo fai dopo, io mi prendo un bel gelato da Trump che me lo serve e rispetto al quale ho diciamo così un momento di nostalgia non riferita al personaggio Trump ma riferita al soggetto che con i suoi tweet in qualche modo regalava ai mercati dei momenti di volatilità che in questo momento sarebbe anche positiva sia nel bene che nel male perché come ripeto anche la discesa sta avvenendo non nel caratteristico modo in cui ci si potrebbe aspettare un po' di rompente anche cavalcabile da chi va short eventualmente. Sarà comunque un momento particolare, stiamo a vedere, abbiamo visto venerdì le scadenze tecniche di luglio, stiamo a vedere come il mercato reagirà, può accadere qualsiasi cosa, i mercati possono reagire però sul finire della settimana il ribasso c'è stato sia sui mercati europei sia sui mercati americani e lunedì vedremo se questa situazione dovrà continuare. Cito anche un fatto, per esempio il petrolio che ha tentato un paio di volte di andare sopra i massimi, comunque nonostante il ritracciamento si mantiene là in cima, i titoli del settore petrolifero invece, sto citando quegli americani e quegli europei, sono su supporti importanti di un trend laterale che magari dura da tempo, in alcuni casi ne hanno addirittura già violato il livello, quindi c'è un po' di differenza. Ripeto, secondo me è un momento che è un po' in sordina ma è delicato perché sui mercati non ci sono nemmeno i volumi per sostenere eventuali movimenti o accelerazioni a ribasso, quindi insomma io credo che la prossima sia una settimana da monitorare con grande attenzione. Torniamo da lunedì con tutti gli appuntamenti e vi ringrazio per essere stati sin qui con me, alla prossima, ciao!